Bella ragazzi qui XWill e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi ritornati su Rainbow Six Siege E come al solito ci andremo a fare una bella partita Però prima vi voglio far vedere due operatori che ho acquistato Ho acquistato Thermite E come difensore ho acquistato Pulse Quindi magari li utilizzeremo anche in questo video Comunque si ragazzi mi raccomando superiamo assolutamente 60 like per altri video su Rainbow Six Siege E qua sotto nei commenti scrivetemi che operatore acquistare E inoltre condividete il video come dei matti con i vostri amici E inoltre ragazzi vi voglio ringraziare per lo scorso video di Slasher Perché abbiamo raggiunto le 350 views o 400 views veramente assurdo E abbiamo sforato i 50 like Quindi regà io vi voglio così sempre sempre vi voglio così Quindi anche sotto questo video mi raccomando i like controllate Perché regà vedete cioè è più bello Ok regà eccoci qui in partita E siamo i difensori Sto utilizzando Pulse Ovviamente non mi sono mai nella vita personalizzato la classe Perché sono deficiente e me lo sono dimenticato Quindi sostanzialmente andrà male Molto ma molto male Innanzitutto voglio capire una cosa Questa qui è un'arma a raffica Ah ok E beh regà adesso i nemici attaccheranno Quindi mi devo nascondere da qualche parte Perché altrimenti i nemici hanno trovato Addirittura sono già qui regà Ho sbagliato tasto e ho schiacciato lì il telefono Dove stanno i nemici? Regà sto utilizzando sto coso Ma non so dove diavolo stanno i nemici Quindi ok però lì ci sarà sicuramente qualcuno eh Lì c'è sicuramente qualcuno Quindi è meglio che mi rimango qui Allora regà mi sposto immediatamente da questa Ok E lì c'è Twitch Lì c'è Twitch maledetto C'è Twitch maledetto Infame Twitch Dai No no dai Wow lì C'è incredibile oh Ma vi rendete conto? Come mi ha ucciso? Dai E vabbè regà round perso ovviamente Ok regà siamo in attacco Ho preso Termite E speriamo bene regà Speriamo veramente bene perché C'è cavolo Ci sono morto due volte Due volte vabbè Sono morto una volta in una maniera assurda E qui ci stanno i nemici perché Hanno messo qui il coso Io lo vedo regà Lo vedo che ci stanno i nemici Lo vedo che ci stanno i nemici Vi vedo cari nemici Io mi devo nascondere però Mi devo nascondere così almeno Se mi nascondo Loro Non mi ha visto Va bene Vado sulla scrivania Hola Perfetto regà Qui dietro Che postazione che mi sono preso Allora Questo qui è un mitra Quindi ottimo E allora regà Loro stanno al piano di sopra Però così rischio di morire mille volte Quindi è meglio che ci vado da fuori E lì però mi sa che c'è qualcuno eh Perché uno c'è appena morto eh Non vorrei fare una brutta fine Sapete com'è? Oh qui c'è morto qualcuno regà E qui c'è morto qualcuno Allora loro stanno lì Nemici Stanno tutti lì Quindi andiamo Con calma Ok L'ho visto Regà l'ho visto Quindi mi nascondo Non credo che adesso Esce di nuovo eh Credo che si sia nascosto Ok Ucciso Ucciso Nemico ucciso Da No da dove? Da dove? Da dove? Da dove? È il frizzino regà C'è twitch C'è twitch Dai regà ma mi ha dato fastidio twitch e poi c'era quell'altro Io non lo so veramente Però almeno una kill l'abbiamo fatta Cioè almeno una Oh Era un vinto Ok regà adesso dobbiamo proteggere E ho preso dock Per questo giro ho preso dock Perché Regà in quello devo migliorarmi la classe Devo personalizzarmela Perché Cioè veramente Non mi ci trovo con il pompa lì Quindi Adesso vediamo un attimo Vabbè questa posso fare nulla più Ormai ho finito tutto Ok regà I nemici stanno Ma quello dove cavolo spara? Boh io non lo so veramente Mi devo trovare un nascondiglio però eh Perché Cioè non sono in una posizione sicura Allora Sono sicuro che di sopra non vengono Di lato Di dietro possono venire come Quindi è meglio che sto qui Tranquillo Se qualcuno entra Lo ammazzo Se da lì vedo una testa E infatti Sì sì E come Se da lì vedo una testa Failo di brutto E vabbè L'hanno ammazzato Sì grande Ne rimane uno Regà E dov'è sto uno? Dove cavolo si trova? Uh Regà l'ho visto L'ho visto Eh C'ho la mira più brutta del pianeta Cavolo Ibana Ma regà Ma io la logica Non la uso proprio Quando gioco a rainbow Proprio zero Eee Round Vingitore Di nuovo Come cavolo si fa a fare così schifo Regà Cioè è assurdo Non esiste Non esiste Ok regà Siamo in attacco Ho preso sledge Come avrete visto sicuramente E adesso troviamo E adesso troviamo assolutissimamente Sti cavolo di nemici Dove diavolo si sono appostati Ok sopra Vediamo di raggiungere immediatamente il piano superiore E mettere qui il drone Ma tutti nella stessa stanza A vita proprio E vabbè Io lo metto Io lo metto lì il drone Regà L'ho messo in modo tale Che è veramente Stupendo E adesso regà Se è possibile Io salgo Dal tetto Però non posso utilizzare Il rambino Cavolo C'è la neve Allora Stiamo attenti Stiamo attenti Qui che qualcuno Potrebbe Esserci No Allora io direi Di entrare No Ok non entro più Perché qualcuno È stato ferito Non so da chi Non so come Però qualcuno C'è L'ho visto Ma proprio io Devo morire Dai Vabbè Ma c'aveva la mira Su di me Proprio Incredibile Assurdo C'è c'ho sfiga Guardate cosa c'era davanti a me Proprio a me doveva Ma è assurdo E round perso Perfetto La tua squadra è stata eliminata Va bene Vorrei fare una vittoria Vorrei fare qualche kill Ma non riesco Regà C'è più forte di me Non so giocare a sto gioco E basta Intanto secondo me Adesso stanno sotto Eh non vorrei dire Eh infatti C'è sono un genio Regà Sono un genio Allora regà Vediamo Di fare tutto per bene Non C'è non cerchiamo di morire Cosa cavolo sto dicendo Vediamo di non morire Non facciamo Scandalo di nuovo E spero che Perlomeno Io stavolta Sia decente A giocare Non dico Di dover diventare Un pro player Però cavolo Almeno una kill Falla no Non costa nulla Fare una kill Intanto qui ci metto La mina claymore Perché non si sa mai Qui la mina claymore No Non è vero Non la metto più E vabbè regà Guardate che E vabbè regà Sono cieco Sono cieco Vabbè dai Lui mi ha visto prima Ovviamente Allora regà Io però voglio Una laurea Per come ho posizionato Questa cavolo Di cosa qui Cioè guardate Come diavolo L'ho messa Puntata verso lo scatolo Dove c'è scritto White Ale E basta E vabbè E round vinto Perfetto Adesso credo che Abbiamo vinto Perché era il match point Ok squadra Arangione Vittoria Sofferta Perfetto E vabbè regà Faccio veramente Schifo Cioè Assurdo Anzi almeno una kill L'ho fatta Nello scorso episodio Nemmeno questa Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere Se il video vi è piaciuto Lasciando un bel like Inoltre mi raccomando Superiamo assolutamente 60 like Se volete altri video Su Rainbow Six Siege Qua sotto nei commenti Iscrivetemi Che operatore acquistare Perché c'è Regà Veramente Io so scarso E basta E mi raccomando Condividete il video Come dei matti Con i vostri amici Quindi Se volete passare Dalla pagina di Facebook E dal proprio Instagram Vedete il link Qua sotto in descrizione Iscrivetevi al canale Per i miei video Con il seguito è tutto Bella raga Ciao a tutti 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 Ciao a tutti